Buongiorno da Carla Clua con le previsioni del tempo di Arpal. Condizioni di stabilità sulla Liguria con cielo soleggiato o poco nuvoloso. 20 settentrionali in intensificazione fino a forti lungo la costa, rafficati sui crinali e localmente forti altrove. Lo scenario si manterrà fino a giovedì. Ecco il dettaglio. Oggi martedì 5 settembre un profondo vortice posizionato sul mare Ionio, esporrà la Liguria all'arrivo di correnti secche e settentrionali per l'intero periodo previsionale. Pomeriggio caratterizzato da ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati settentrionali in rinforzo, raffiche fino a forti tra 50 e 60 chilometri all'ora. Mare mosso a Ponente per onda viva da est su dest, poco mosso altrove, temperature in calo nei valori massimi e in quelli serali, sulla costa tra 28 e 30 gradi, nelle zone interne tra 25 e 29 gradi. Domani mercoledì 6 settembre condizioni di stabilità grazie all'arrivo di correnti secche settentrionali in un contesto anticiclonico. Si prevede una giornata ventosa con cieli terzi e valori di umidità contenuti. Venti moderati o forti settentrionali in temporanea attenuazione pomeridiana. Mare mosso a Ponente in calo, poco mosso altrove, temperature minime in lieve calo lungo la costa tra 19 e 24 gradi, nelle zone interne tra 14 e 16 gradi, massimi in aumento sulla costa tra 30 e 32 gradi, nelle zone interne tra 27 e 32 gradi. Dopodomani giovedì 7 settembre situazione invariata con l'alda pressione che posiziona i suoi massimi tra l'Europa orientale e settentrionale. Sulla Liguria ancora una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati settentrionali localmente meridionali, mare poco mosso, temperature stazionari e un lieve aumento minime lungo la costa tra 21 e 28 gradi, nelle zone interne tra 15 e 17 gradi, massime sulla costa tra 30 e 32 gradi, nelle zone interne tra 28 e 32 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito arpal.liguria.it, sui nostri social, sul canale Telegram e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Pay e Apple Store. A risentirci!